Dunque, grazie Volodymyr, buon pomeriggio a tutti. Sono particolarmente orgogliosa di essere qui a Kiev, nella città che rappresenta il cuore per la lotta per la libertà dell'Europa. Sono particolarmente fiera di essere qui in questo giorno così significativo. Sono onorata di poter condividere questo momento con te, ma penso sia anche molto simbolica la presenza delle massime istituzioni europee, quindi la Presidente della Commissione europea, del Presidente di turno del Consiglio europeo, così come io sono presente anche in qualità di Presidente del G7. Noi oggi pomeriggio celebreremo da qui la prima riunione a livello di Capi di Stato e di Governo del G7 durante la Presidenza italiana e il futuro Presidente del G7. Quindi credo che tutto questo sia oggi molto simbolico, perché è chiaramente un ulteriore conferma.